ciao sono il dottor max della pharma max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata agli integratori alimentari ti leggerò i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace ai video che ti interessano e commentare con le tue esperienze personali in base ai farmaci integratori o principi attivi da te assunti in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie ai suggerimenti condivisi in questo video esaminiamo l'integratore alimentare e cos srl ultimo aggiornamento 28 giugno 2022 a cosa serve confezioni informazioni commerciali indicazioni modalità d'uso avvertenze ingredienti apporto nutrienti immagini prodotti a cosa serve è un integratore appartenente alla categoria degli integratori antiossidanti e commercializzato in italia dall'azienda cos srl informazioni commerciali titolare cos srl concessionario cos srl categoria di appartenenza integratori antiossidanti forma farmaceutica capsula confezioni egg estratto secco tè verde 30 capsule indicazioni effetti fisiologici del tè verde foglie antiossidante tonico stanchezza fisica e mentale modalità d'uso 1 capsula due volte al giorno dopo i pasti avvertenze si sconsiglia l'uso in gravidanza il prodotto va utilizzato nell'ambito di una dieta variata ed equilibrata seguendo uno stile di vita sano non eccedere le dosi giornaliere raccomandate tenere lontano dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni ingredienti tè verde camelia sinensi selle con c'è foglie estratto secco 65 per cento epigallo catechina gallato uguale 80 per cento catechine 98 per cento polifenoli amido di mais pre gelatinizzato anti agglomeranti magnesio stiarato vegetale silice da bambò bambusa bamboselle boss giovani fusti costituenti della capsula di natura vegetale idrossipropil metil cellulosa gomma gellano color calcio carbonato e calcio fosfato apporto nutrienti per capsula tè verde camelia sinensi selle con c'è foglie estratto secco 65 per cento epigallo catechina gallato uguale 80 per cento catechine 98 per cento polifenoli 231 mg fonte codifa l'informatore farmaceutico per avere accesso alla versione più aggiornata si consiglia l'accesso al sito web della codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero che la farmamax ti sia stata utile iscriviti al canale e sarà informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo integratore alimentare esaminato